In una giornata caratterizzata da tante iniziative nel giorno internazionale contro la violenza sulle donne spicca l'incontro organizzato al liceo Lucio Piccolo di Capodorlando. Presenti le massime cariche politiche ed istituzionali per ribadire ancora una volta no alla violenza di genere. Quella di oggi è un'occasione importantissima per riflettere così come dovremmo fare quotidianamente a tutti i livelli sul tema della violenza di genere. La scuola ha un ruolo fondamentale nel plasmare quelle che sono le nuove generazioni. Ecco perché giornate come queste hanno una valenza altissima per sensibilizzare gli studenti e per promuovere una cultura del rispetto, dell'uguaglianza e della solidarietà. Non ho chiesto un minuto di silenzio ma un applauso che vuole essere un urlo di civiltà perché siamo stanchi, siamo stanchi di ascoltare, di sentire che ogni donna viene uccisa da colui che doveva proteggerla e invece è diventato il suo aguzzino. In questo caso invece in questi tipi di violenze specialmente nell'ambito domestico ma anche nel caso di stalking eccetera accade un fenomeno che viene un po' trascurato e per questo cerco di dare un po' di maggiore attenzione in questi incontri. E cioè quello di una vittima che per tutta una serie di ragioni psicologiche, di dinamiche particolari che oggi cercherò di esporre rimane intrappolata all'interno di quel contesto violento. E allora che succede? Che ha un momento di reazione, un sussulto, denuncia, interveniamo, però poi torna all'interno di quel contesto malato, disfunzionale e tende a ritrattare. La ritrattazione determina un effetto devastante sia sulla vittima perché è vittima due volte, è vittima nel momento in cui subisce le violenze, è vittima nel momento in cui torna all'interno di quel contesto violento ed è vittima una terza volta perché attraverso la ritrattazione rischia lei di andare sotto procedimento penale. Quindi chiede alla giustizia un intervento di tutela, è vittima una prima volta, è vittima una seconda volta e potenzialmente diventa vittima una terza volta da parte della giustizia che agisce a causa di quella ritrattazione e quindi di quell'effetto intrappolamento, agisce contro di lei perché la indaga e poi la mette sotto procedimento per falsa testimonianza o per calunnia. Quindi sono rischi elevatissimi e che sono frequentissimi. Quindi cercherei in questo momento, ma come in altre occasioni, di evidenziare quanto pericoloso sia l'intrappolamento della vittima all'interno di questi contesti malati e disfunzionali. Dal punto di vista tecnico-giuridico noi utilizziamo degli strumenti, utilizziamo l'incidente probatorio al fine di cristallizzare immediatamente la prova. Andiamo a chiamare subito le persone offese affinché depongano con tutte le garanzie di legge per sterilizzare dal rischio delle ritrattazioni. Ma non basta. Occorrono questi incontri, occorrono questi interventi che siano interventi non finalizzati soltanto ad incrementare la fase repressiva o altro, ma è una funzione preventiva. Evidenziare, mettere in evidenza quanto siano rischiosi certi tipi di dinamiche. Grazie.